A palto Auditorium di Sernia, Francesco Maria De Vito Piscitelli, imprenditore napoletano, tra il 2011 e il 2012 calugnò ingiustamente Antonio Di Pietro, ex ministro dei lavori pubblici, affermando che aveva manovrato affinché l'opera fosse aggiudicata alla ATI, la cui capogruppo era l'impresa Lupo. Tutto falso e per questo il Tribunale di Roma lo ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione e ad una provisionale di 20.000 euro a beneficio dell'ex ministro Molisano che, è il caso di sottolinearlo, poteva ben dire di avere le mani pulite. Infatti per il giudice Maria Laura Pesano del Tribunale di Roma, Piscitelli non solo era consapevole delle falsità delle sue accuse, ma era perfettamente a conoscenza dell'estranità di Antonio Di Pietro, difeso dall'avvocato di Sernia Giulia Iemma, per i fatti che gli venivano attribuiti. Voleva colpire proprio chi, come Di Pietro, aveva segnalato con due lettere alcune stranezze degli appalti legati alle grandi opere da realizzare per i 150 anni dell'Unità d'Italia e che aveva estromesso Balducci dal Ministero delle Infrastrutture. Con riguardo alla gara da 50 milioni per l'auditorium di Sernia, Piscitelli sostenne, raccontandolo anche al giudice, di essere stato contattato da un funzionario del Dipartimento Grandi Opere e stretto collaboratore di Balducci, subito dopo l'apertura delle buste da parte della Commissione Tecnica e di aver ricevuto da lui la certezza di essersi aggiudicato l'appalto. Ma subito dopo lo stesso Balducci gli avrebbe riferito, informato da Guido Bertolaso, che Antonio Di Pietro aveva manovrato affinché l'opera fosse aggiudicata alla ATI di cui era capogruppo l'impresa Lupo. Ed è questo il motivo per il quale Antonio Di Pietro ha denunciato per calunnia a defito Piscitelli, dopo aver letto l'intervista con le accuse pubblicate su Repubblica il 20 ottobre 2012. Il 25 maggio è processo a Roma, ieri sono state rese note le motivazioni della condanna di Piscitelli per calunnia.